Parliamo adesso di qualità dell'aria e dell'acqua nell'Ovest Vicentino. Secondo l'agenzia Giada, nell'area tra le più industrializzate del Veneto, si respira molto meglio che in passato, ma non si può dire lo stesso per l'acqua. Sara Barovier, Paolo Colombatti. Distretto conciario di Arzignano, nella Valle del Chiampo, il più importante d'Europa, ci sono 300 aziende che lavorano la pelle da esportare in tutto il mondo e l'aria qui negli ultimi anni è decisamente migliorata. Grazie alle nuove tecniche di lavorazione, ai nuovi prodotti che hanno sostituito i solventi, ai controlli continui sugli scarichi dei camini e grazie anche all'agenzia provinciale Giada per il risanamento ambientale che esegue con l'ARPAV i monitoraggi della qualità dell'aria. I risultati delle rilevazioni sono stati presentati a Montorso, uno dei 17 comuni del distretto. Quando si fanno le cose in collaborazione con le istituzioni, il mondo produttivo e il mondo privato, i risultati si vedono. Siamo contenti oggi di dire che nonostante siamo in un settore, in un ambiente altamente produttivo, altamente industrializzato, i lavori fatti di monitoraggio e di controllo dell'aria ha portato a questi miglioramenti che sono dettati dai risultati che continuamente l'ARPAV in maniera puntuale fa. Non sono altrettanto rassicuranti naturalmente i dati rilevati per quanto riguarda l'acqua dei pozzi che invece in questa zona resta sorvegliata speciale per via dell'inquinamento da FAS. L'azienda è indicata da ARPAV come responsabile, la Miteni di Tristino. Con la nuova gestione sta collaborando alle bonifiche, ma per tornare alla normalità ci vorranno anni. L'azienda ha presentato i sensi del 245 del 152, sostanzialmente non assumendose nella responsabilità diretta, un piano di bonifica che è in corso di attuazione. Quanto tempo ci vorrà? Credo che ci vorranno anni per arrivare a un perfetto controllo della situazione. E produrre nel rispetto dell'ambiente si può. Ci sono infatti aziende che adottano tecniche di lavorazione all'avanguardia. Un esempio arriva proprio dal distretto Conciario del Vicentino. Vediamo. Una pezza di pelle che viene spruzzata di rosso diventerà una borsetta e verrà poi venduta all'altro capo del mondo. Produrla nel rispetto dell'ambiente salvaguardando l'aria e l'acqua si può anche nell'area industriale dell'acconcia. L'esempio positivo arriva dalla Conceria Lab di Montorso, Valle del Chiampo, 90 dipendenti, che produce pelli per borsette e scarpe ed esporta in tutto il mondo. Ha ottenuto tre certificazioni di qualità, ha un impianto fotovoltaico e un cogeneratore a gas, che produce elettricità e che attraverso il circuito di raffreddamento recupera l'energia termica sotto forma di acqua calda, che viene a sua volta riutilizzata nel ciclo di lavorazione. Oltre a questo abbiamo adottato un sistema anche di gestione di qualità all'interno, quindi un ISO 14001, per poter monitorare tutti quelli che erano gli aspetti che impattavano sull'ambiente. Tra le nuove tecniche verdi c'è quella della cosiddetta spruzzatura a bassissimo dosaggio di solventi. Ci sono dei sistemi che ci possono permettere di spruzzare meno solvente oppure meno polvere in atmosfera e logicamente questo comporta una continua ricerca e anche una continua innovazione all'interno dell'azienda. Barbara Boschetti, figlia del fondatore, fa parte di una nuova generazione di imprenditori attenta al territorio. Il vantaggio economico si vede nel tempo, ma la cosa principale è che io credo che tutti noi abbiamo l'obbligo di lasciare ai nostri figli un territorio che non sia proprio quello che forse ci siamo trovati anche in passato noi. Grazie.